Julian Assange sarà un cittadino di Pescara dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ordine del Giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, in particolare dai consiglieri Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo. Un'iniziativa che nell'assise di Palazzo di Città ha trovato un consenso praticamente unanime. Il giornalista, attivista e fondatore del sito Vitilix era salito agli onori della cronaca internazionale nel 2010 per aver rivelato documenti statunitensi scottanti. È un segnale importante rispetto a questa vicenda di Julian Assange che è umana ancora prima che è diplomatica e giudiziaria. È un atto che per quanto simbolico comunque dimostra come anche la comunità pescarese voglia unire la propria voce al coro di protesta internazionale che si è sollevato a difesa di Julian Assange che con la sua attività professionale è diventato un vero e proprio simbolo della stampa libera. Con particolare soddisfazione accogliamo anche l'esito di questo voto positivo. Sono vicende profondamente diverse tra loro ma che testimoniano come la comunità pescarese voglia unire la propria voce a difesa di ideali importanti come questi. Nel caso di Zaki è una questione più politica che di altra natura. Quella di Assange chiaramente dimostra come ideali, come la libertà di stampa, di informazione e di apparenza forse oggi più che mai debbano essere tutelati e difesi.